Notizie di Prato Tg, a tutti buonasera. Minacce e atti persecutori, queste le ipotesi di reato per le quali una donna di 39 anni albanese, residente a Vaiano, è stata sottoposta a ordinanza di custodia cautelare. La donna non potrà avvicinarsi né comunicare con la sua vittima una connazionale presa di mira con continue telefonate e messaggi con minacce di morte. I carabinieri hanno notificato ieri il provvedimento del tribunale. La vittima di stalking era caduta in un profondo stato di ansia e di angoscia procurato dal comportamento ossessivo della 39enne che alla fine ha trovato il coraggio di denunciare. Sconto nelle bollette della luce e del gas per le famiglie in difficoltà economiche e per quelle che hanno a carico malati gravi. Ecco dunque a chi spetta come fare per ottenere questo sconto. Ve lo dice Alessandra Grati. Uno sconto in bolletta che può arrivare a quasi 100 euro per le utenze di gas e luce destinato alle famiglie in difficoltà economica o che hanno familiari a carico dipendenti da macchinari sanitari e energivori. Dal 2008 è possibile usufruire del bonus energia. Ma in pochi conoscono questa opportunità. Così Estra lancia una campagna informativa. Estra ti avvicina e ti informa per presentare l'agevolazione. Si tratta di povertà energetica. Anche il nostro paese subisce questa conseguenza dovuto al fatto che le bollette pesano sempre di più su famiglie e imprese. Nel caso delle famiglie l'Italia comincia a accusare qualche segno di debolezza. Siamo al 17esimo posto su 28 in Europa come indice di povertà energetica proprio per l'impegno economico importante dell'approvvigionamento di luce e gas. Estra sta facendo la sua parte e vuole lanciare questa campagna anche per aiutare i nostri soci indiretti che sono le amministrazioni comunali appunto per promuovere la conoscenza di questa opportunità per chi versa in condizioni di disagio energetico. A poter far domanda sono le famiglie con un ISEE non superiore a 8.107 euro che sale a 20.000 per quelle con più di tre figli a carico. Gli sconti sono cumulabili, la modulistica è scaricabile sul sito del Comune di Prato, su quello di Arera e di Anci. Le domande dovranno essere consegnate agli uffici dell'assessorato ai servizi sociali e ai CAF. L'indicazione dell'autorità per l'energia estra recepito permetterà ad alcune famiglie, ad alcune persone di accedere a questa forma di scontisti, a questa forma di sostegno e quindi magari vediamo se riusciremo noi a recuperare queste risorse e ad operarle sempre per il sostegno delle persone in difficoltà ma magari sotto altre voci, sotto altri capitoli. Pioggia, vento, freddo e persino la neve. Era il 5 maggio ieri ma poteva benissimo essere una giornata di pieno inverno. Come era stato annunciato una perturbazione ha colpito tutto il territorio provinciale con un brusco abbassamento delle temperature. I fiocchi di neve sono caduti nella parte più alta della Val di Bisenzio con una copiosa nevicata sui punti più elevati come vedete dalle immagini che arrivano dalla parte più alta della vallata. Tanta neve e appoggio di petto sopra Cavarzano, anche Montepiano è stata coperta da un manto di neve fuori stagione mentre i fiocchi si sono fatti vedere anche a Sasseta e in tutti i punti più alti dei comuni di Vernio e di Cantagallo. Sabato prossimo Piazza delle Carceri cambierà volto e si trasformerà per un giorno in una mega palestra a cielo aperto. Sentite, Alessandra Grati. Sabato 11 maggio Piazza delle Carceri e il Castello dell'Imperatore si trasformano in una grandissima palestra a cielo aperto per ospitare la festa dello sport organizzata dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva. È una giornata di sport, una giornata di avviamento, di dimostrazione di tre discipline fondamentali tre discipline fondamentali che vengono fatte con passione e professionalità dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva è l'inizio del percorso sportivo dei ragazzi che noi vogliamo contribuire a formare e fortificare sia per i bimbi che nelle famiglie perché dal nostro punto di vista uno degli aspetti più preoccupanti della crescita e dello sviluppo formativo dei ragazzi è legato all'abbandono sportivo. Il Comune di Prato e il CGFS fanno parte di un progetto pilota per tamponare l'emorragia di abbandoni. Sono state infatti organizzate alcune squadre che partecipano ai campionati minori e hanno meno ore di allenamento. Una pratica che sta dando ottimi risultati e soprattutto nel nuoto dove i ragazzi continuano l'attività sportiva almeno fino ai 17 anni contro i 13 delle altre discipline. L'appuntamento è alle 9 e si continuerà fino a mezzogiorno. In questa prima edizione inizieremo con gli sport di squadra quindi sarà presente la palla a volo, la palla a canestro e la palla a mano. Ci saranno circa 600 bambini che frequentano i corsi delle nostre attività in palestra nell'estrascuola al pomeriggio. Inoltre saranno invitati anche tutti i bambini delle scuole che hanno svolto i progetti scolastici inerenti alla palla a volo, al basket e alla palla a mano. E c'è grande attesa per una iniziativa in programma Appoggio a Caiano dove si raccoglieranno fondi da destinare all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. All'asta sarà battuta la maglia di uno dei campioni della Fiorentina più amati, Federico Chiesa. Claudio Vannacci. Si concluderà con un'asta benefica con la maglia di Federico Chiesa, il giocatore della Fiorentina, in palio la giornata di sport e divertimento organizzata a Appoggio a Caiano con lo scopo di raccogliere soldi per la fondazione Tommasino Bacciotti che da oltre 20 anni è impegnata a fianco dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'iniziativa si terrà lunedì 13 maggio al campo sportivo Martini di Poggio a Caiano dove si affronteranno la squadra dell'ospedale Meyer e le stelle del torneo dei Rioni, formazioni che saranno allenate da Giancarlo Antonioni, club manager della Fiorentina, e Aldo Firicano, ex capitano della squadra Viola. Dopo l'incontro l'asta di beneficenza organizzata grazie alla collaborazione del Rotary Club Prato insieme alla scena le scuderie Medice è servita dagli studenti del Datini. L'intero ricavato dell'iniziativa contribuirà al mantenimento degli appartamenti gestiti dall'Associazione Tommasino Bacciotti, intitolata al bimbo di 24 mesi morto di tumore nel 1999 e destinati alle famiglie dei pazienti ricoverati al Meyer. Questa giornata, questi fondi raccolti andranno nel progetto Casa Accoglienza Tommasino perché la fondazione, proprio il mese prossimo, inaugurerà il ventunesimo appartamento che mettiamo a disposizione dell'ospedale Meyer e soprattutto mettiamo a disposizione gratuitamente di tutte quelle famiglie che provengono da fuori regione con il bambino malato di tumore. Quindi è un percorso di guarigione in più perché poter dare un appartamento, ricompattare, costruire la famiglia che lasciano al paese di provenienza è importante per il bambino malato. Parliamo di politica. Le elezioni a Montemurlo, il vice sindaco uscente Simone Calamai che si è messo in corsa per la poltrona di primo cittadino può contare sul sostegno di un'altra lista civica. Si chiama Amare Montemurlo ed è stata presentata questa mattina. La lista civica Amare Montemurlo a sostegno di Simone Calamai, attuale vice sindaco in corsa per la carica di primo cittadino. Un gruppo di 16, 9 uomini e 7 donne candidati al Consiglio Comunale, imprenditori, lavoratori, dipendenti, professionisti, studenti, pensionati tra i 23 e i 70 anni. Il nome stesso della lista civica rappresenta un po' il motivo per cui nasce. Sono persone che sono già impegnate nella comunità montemurlese, in associazioni o comunque in altro modo, sono parte attiva di quella che è la vita cittadina e hanno deciso di mettersi in gioco, di partecipare a queste amministrative mettendo del loro per impegnarsi e per mettersi a disposizione della cittadinanza per proseguire quello che è il buon lavoro di questi ultimi anni dell'amministrazione uscente. La compagine di centro-sinistra che punta su Calamai è dunque completa. Dopo il Partito Democratico e la lista civica a sinistra per Montemurlo, l'altra civica Amare Montemurlo. Un progetto che punta a inglobare anche chi la pensa diversamente dal centro-sinistra, ma ha condiviso l'operato dei dieci anni di governo del sindaco Mauro Lorenzini. Il programma che appoggiamo è appunto quello della coalizione. Per quello che ci riguarda siamo un gruppo eterogeneo di persone che rappresentano uno spaccato di Montemurlo e quindi l'intenzione è dare continuità all'amministrazione Lorenzini. La lista civica Amare Montemurlo nasce come una lista che ha come obiettivo di proseguire il lavoro e che è stato molto apprezzato della giunta Lorenzini. Quindi è composta fondamentalmente nel raggiungimento degli obiettivi che dovranno ancora essere realizzati ma fondamentalmente nasce perché l'operato è stato apprezzato e ben voluto da tutti. Era questa la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, io mi fermo qui. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci.